Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRMH24. In apertura torniamo sul terribile duplice omicidio che domenica scorsa ha scosso il comune di Torre Maggiore nel Foggiano. Questa mattina si sono svolti i funerali del 51enne Massimo De Santis, vittima della follia omicida del panettiere 45enne Taulant Malai, attese per lunedì le esequie della piccola Jessica. Ascoltiamo i dettagli. Una folla composta riempito la chiesa del Gesù Divino Lavoratore di Torre Maggiore nel Foggiano. Per dare l'ultimo saluto a Massimo De Santis, l'uomo di 51 anni, assassinato a coltellate la scorsa domenica nel pianerottolo della sua abitazione in via Palmiro Togliatti. L'uomo raggiunto dalla follia omicida del panettiere 45enne Taulant Malai sarebbe stato colpito da 23 coltellate, perché ritenuto dall'uomo il presunto amante di sua moglie Tefta, 39 anni, rimasta ferita nell'agguato. A celebrare l'esequie don Renato Borrelli, parroco della chiesa, che nella sua omelia ha invocato il silenzio su qualcosa di inesistente. Chiaro il riferimento alla presunta relazione clandestina tra Massimo e Tefta, moglie del reo confesso. Penso che chi avesse sussurrato all'orecchio dell'assassino qualcosa dovrà ora sentire il rimorso, ha proseguito il parroco. Al termine della celebrazione un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro. Dopo aver ucciso De Santis, il panettiere, il reo confesso e attualmente in stato di fermo, sarebbe entrato in casa dove avrebbe provato ad uccidere sua moglie, colpendo però mortalmente sua figlia Jessica, di 16 anni. I funerali di quest'ultima saranno celebrati lunedì mattina. Su desiderio di sua madre, la Salma verrà tumulata provvisoriamente al cimitero di Torremaggiore, per poi essere trasferita in Albania. Sono convinto che Taulat Malai aveva premeditato sia l'omicidio di Massimo De Santis che quello della moglie Tefta, commentato intanto Michele Sondrio, legale della donna. Sono anche abbastanza convinto che per circostanze che non posso al momento rivelare, anche l'assassinio di Jessica non sia stato affatto un cosiddetto errore, ma sia stato voluto da Taulat, che odiava anche la sua stessa figlia. Per il legale, Taulat Malai ha compiuto una serie di gesti terribili e disumani nella piena consapevolezza di quello che stava facendo. Per Sodrio, inoltre, altri aggravanti di ergastolo che sembrano palesi sono quelle dei futili motivi e della crudeltà. Restiamo sulla cronaca. Un uomo di 50 anni è riuscito a scampare ad un agguato che gli è stato teso ieri sera mentre era per strada a Cerignola nel Foggiano. Secondo la ricostruzione, il 50enne è stato raggiunto da un'automobile con a bordo tre persone che hanno sparato cinque colpi di pistola calibro 7,65. L'uomo è riuscito a fuggire e nascondersi rimanendo illeso. Gli aggressori hanno quindi abbandonato il veicolo e sono fuggiti. Gli aggressori, il 50enne, scusate, cardiopatico, subito dopo l'agguato si è sentito male ed è stato soccorso e portato in ospedale. Sul posto i poliziotti che hanno recuperato tre bossoli. Un valido aiuto alle indagini e all'identificazione dei tre potrà aggiungere attraverso la visione delle telecamere di sicurezza della zona. E cambiamo adesso argomento. Siamo alle elezioni amministrative. Urne aperte dalle 7 di domani fino alle ore 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per il rinnovo di 65 comuni tra Puglia e Basilicata. Vediamo. Le elezioni comunali 2023 vedranno il coinvolgimento di 65 comuni tra Puglia e Basilicata. Nel dettaglio 51 comuni pugliesi e 14 lucani andranno alle urne il domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi avranno luogo il 28 e 29 maggio negli stessi orari. In 13 comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra cui Brindisi, capoluogo di provincia, si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. I brindisini chiamati al voto dovranno scegliere tra quattro candidati. Tra gli altri comuni più grandi, l'attenzione in Puglia è rivolta ad Altamura e Monopoli, entrambi nella città metropolitana di Bari e Biceglie nella Bat. In tutti e tre i comuni, i candidati alla carica di sindaco sono rispettivamente 5 per Altamura, 4 per Monopoli e Biceglie. Il quadro pugliese si completa con 9 comuni della città metropolitana di Bari, 2 nella Bat, 8 nella provincia di Taranto, 13 in Salento, 11 nel Foggiano e 8 nel Brindisino, dove Ostuni e Carovigno ritornano al voto dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale nel 2021 per infiltrazioni mafiose. Anche la Basilicata apre le urne, con 14 comuni coinvolti, 12 nel Potentino e 2 nel Materano. Il più grande è Lavello, con 13.000 residenti ma senza doppio turno. Gli altri comuni al voto in provincia di Potenza sono Atella, Forenza, Genzano di Lucania, Lago Negro, Muro Lucano, Pietra Pertosa, Pignola, Ripagandida, Ruvo del Monte, Sasso di Castalda e Vaglio Basilicata. Nel Materano invece si vota Scanzano Ionico e Tricarico. E siamo adesso alla protesta degli studenti sul caro affitti. L'assessore all'istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, scrive alla Ministra dell'Università, Anna Maria Bernini. Sentiamo. Preciatissima Ministra, in queste ore assistiamo alle proteste in tutto il Paese della comunità studentesca sulla questione degli alloggi per i fuorisede. L'Italia deve rimettersi al passo degli altri Paesi europei che in questi anni hanno investito ingenti risorse sull'housing studentesco e sull'attrattività delle loro città universitarie. Inizia così la lettera dell'assessore all'istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, alla Ministra dell'Università, Anna Maria Bernini. Nella lettera Leo fa riferimento ai finanziamenti previsti per il PNRR che definisce l'ultima buona occasione per colmare il divario con gli altri Paesi del continente. Nei giorni scorsi, scrive Leo, il CDM ha autorizzato lo sblocco di 660 milioni di euro per la creazione di 47.500 nuovi posti per studenti fuorisede. Il Fondo Housing Universitario ha come beneficiare i soggetti privati che in collaborazioni con le università italiane potranno realizzare alloggi in strutture esistenti o creandone delle nuove. Il timore è che una volta terminate le risorse previste dal PNRR che tengono sotto controllo i prezzi degli alloggi garantendo una tariffa calmirata. A partire dalla 2026 questi posti saranno offerti a prezzi di mercato quindi molto più cari e dunque a pannaggio solo di chi potrà permetterselo. È fondamentale che la regia degli interventi in materia di residenze universitari dei servizi a disposizione degli studenti resti pubblica. Leo chiede alla Ministra dell'Università Bernini una riflessione collettiva sul rapporto tra le città e le università, su quali modelli di sviluppo adottare, su dove collocare i nuovi alloggi universitari in relazione ai sistemi urbani e ai territori che li accolgono lanciando l'idea di una università di prossimità. La lettera di Leo fa seguito alle proteste degli studenti avvenute anche in Puglia che ha portato agli accampamenti degli stessi in tenda davanti al Datenei e a Flash Mob. È necessario, sottolinea l'assessore a margine della lettera indirizzata alla Ministra, allargare il tavolo del confronto a tutti i soggetti coinvolti, le regioni, gli enti locali, le università, le associazioni studentesche, il terzo settore. Una grande fase di concertazione di cui mi auspico voglia farsi promotrice che individui soluzioni e modelli condivisi. E il tema della transizione energetica e della decarbonizzazione al centro del convegno organizzato a Taranto da Confapi Puglia. Tra gli ospiti anche il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il PNRR. Raffaele Fitto, vediamo. La transizione energetica, quella digitale, che sono i punti fondamentali dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo particolare la strategia che la Commissione europea ha messo in campo in questa legislatura, sicuramente sono degli obiettivi ambiziosi e da portare avanti con convinzione, ma devono anche tener conto, e questa è la seconda riflessione di carattere generale, degli accadimenti. Nel senso che se si è stabilito un obiettivo nel 2019, quando si è avviata la legislatura europea, non si può far finta di nulla rispetto agli accadimenti, non sugli obiettivi finali, ma sulla tempistica per poterli realizzare. Così il Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione, il PNRR, Raffaele Fitto, al convegno organizzato a Taranto da Confapi Puglia, al circolo ufficiali della Marina Militare, dal titolo Transizione Energetica e Competitività Industriale. Il tema della transizione energetica al centro quindi del dibattito, che non ha però trascurato anche altre importanti questioni, come la decarbonizzazione. Quella della decarbonizzazione apre, dal nostro punto di vista, a grandi opportunità economiche, grandi possibilità di riqualificazione per le nostre imprese e per il mondo del lavoro, e sicuramente la strada, l'emancipazione da quella monocultura sfittica, siderurgica che tante ferite ha recato al nostro modello economico. Noi siamo fermamente convinti di questa nuova era, siamo convinti della decarbonizzazione, siamo convinti che bisogna lavorare nel rispetto dell'ambiente, stiamo facendo di tutto. Noi, con i nostri presidenti provinciali, che hanno dato una grossa mano ad organizzare questo convegno, vogliamo proprio dire al Governo che siamo su questa linea, su questa strada. E a Bari un altro convegno, il tema è quello della gestione professionale dei creditori dell'impresa in crisi. Ascoltiamo. La gestione professionale dei creditori dell'impresa in crisi, è questo il tema del convegno che si è tenuto nel Dipartimento di giurisprudenza di Bari, alla luce della legge delega per la riforma di tutte le procedure concorsuali, entrata in vigore il 15 luglio 2022. Abbiamo avvertito quindi la necessità, come CESPEC, che è un'associazione di magistrati che si occupa delle procedure esecutive concorsuali, di raccogliere, di fare un po' il punto della situazione a circa 7-8 mesi dall'entrata in vigore della riforma. Ovviamente, sia le funzioni di giudice delegato, che di giudice delle esecuzioni, che di pubblico ministero, di giudice della prevenzione, necessita dell'ausilio dei professionisti per un corretto funzionamento del servizio. Un confronto sul recupero della capacità produttiva di imprese in crisi, attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà in cui può trovarsi l'impresa, e il rapido accesso a soluzioni giudiziali o stragiudiziali, modulabili in base alle caratteristiche della crisi, con particolare riferimento alla situazione pugliese. La situazione in Puglia è ovviamente complessa, nel senso che da una parte abbiamo la crisi delle imprese storiche. Per esempio, in edilizia vi è stata una serie di liquidazioni giudiziali, il primo si chiamavano fallimenti di grosse società, eccetera, anche richieste dalla Procura. Dall'altra, invece, abbiamo lo sviluppo di nuova imprenditorialità anche in settori piuttosto avanzati. Il problema, ovviamente, è quello di riuscire da una parte a perseguire le società che in qualche modo hanno modalità illecite di gestione dell'impresa, dall'altra di evitare che diciamo in questi meccanismi poi soffocano le imprese nella loro attività. E sempre a Bari, Open Day all'istituto comprensivo Don Milani per Lab San Paolo 06. Il polo educativo vincitore di un bando di Save the Children propone servizi per le bambine, i bambini da 0 a 36 mesi e attività ludiche, culturali e sportive per i più grandi fino a 6 anni. Vediamo. È un polo educativo innovativo vincitore su 250 progetti su scala nazionale dei programmi Italia-Europa Save the Children. Open Day a Bari all'istituto comprensivo Don Milani per Lab San Paolo 06. Il polo educativo propone servizi per le bambine e bambini da 0 a 36 mesi e attività ludiche, culturali e sportive per i più grandi fino a 6 anni. All'evento, oltre alla direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children, Raffaella Milano, e all'assessora alle politiche educative giovanili, Paolo Romano, c'era anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Save the Children apre un'altra struttura a 0 a 6 anni all'interno della nostra città, nel quartiere San Paolo, dove tra qualche mese apriremo due asili nido, in via La Nave e in via Cacudi. Qui saranno accolti 250 bambini che potranno socializzare nei primi anni della loro vita, ma questa struttura serve anche alle famiglie, in particolare alle giovani coppie, a quelle coppie che magari decidono di non avere dei figli perché non ci sono servizi, o a quelle giovani coppie dove magari uno dei due decide di non lavorare perché non ha la famiglia d'origine che può fare da ammortizzatore sociale e occuparsi dei bambini. Qui faremo anche accoglienza per le famiglie, per le famiglie più fragili, orientamento al lavoro, educazione alla genitorialità. È una struttura complessa in sinergia con le scuole e con le associazioni di questo quartiere. È una bella realtà. E siamo adesso alla Sanità Lucana. La cooperativa Auxilium scende in piazza sul tema dell'assistenza domiciliare. Basilicata è indietro sulla normativa nazionale, comparto a rischio, dicono. Intanto manifestazione a potenza il 16 e 17 maggio. Sentiamo. La Regione Basilicata non si adegua alle nuove normative sulle cure domiciliari e scatta la protesta. Martedì e mercoledì prossimi i lavoratori di Auxilium scenderanno in piazza contro la Giunta Bardi. La Regione Basilicata, spiegano soci e dipendenti, non ha ancora pubblicato le procedure di autorizzazione e accreditamento all'erogazione delle cure domiciliari introdotte dallo Stato fin dal 2020. Alle nuove normative nazionali si è già adeguata la quasi totalità delle Regioni, ma la Regione Basilicata, denuncia Auxilium, ha scelto una strada antica e non rispondente al mutato quadro normativo. Nonostante la cooperativa abbia formalizzato specifica istanza per essere autorizzata fin dal mese di ottobre del 2022 e più volte in diverse sedi abbia rimarcato che l'applicazione delle vigenti normative nazionali in materia di assistenza domiciliare non è differibile in alcun modo, la sua voce è per ora rimasta inascoltata, un atteggiamento che preoccupa anche i cittadini e che rischia di vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi dall'assistenza domiciliare integrata a Lucana. Le centinaia di operatori che ogni giorno e tra enormi difficoltà con professionalità e umanità forniscono un servizio di eccellenza, conclude Auxilium, non possono più tollerare il silenzio assordante della regione. Restiamo in Basilicata, siamo a Matera, scuola di politica per giovani donne. Al Brancaccio termina il ciclo di lezioni rivolto alle ragazze dai 14 ai 18 anni per riconoscere il proprio sé e per scoprire il proprio ruolo nella società. Domani a Ridola la giornata di chiusura con la consegna dei diplomi. Preministra è una scuola di leadership per giovani donne dei 14 ai 18 anni. Siamo alla seconda edizione, lanciamo le iscrizioni per la terza edizione ed è un progetto che lavora proprio sull'importanza di essere leader di se stesse. Le ragazze che formiamo sono ragazze appunto dei 14 ai 18 anni e le invitiamo sempre a ragionare sull'importanza che hanno innanzitutto loro per se stesse, per la società, per le loro idee e quindi in qualche modo questa scuola insegna le ragazze soprattutto a pensare, a riprendersi un po' la loro voce. Siamo felicissime oggi perché stiamo chiudendo un ciclo di un anno in cui abbiamo visto le nostre ragazze crescere, diventare veramente donne in questo loro nuovo protagonismo. Oggi siamo al Brancaccio perché abbiamo deciso di dedicare l'ultima lezione al prendersi cura. Parlando del concetto di cura, la prima cosa a cui dobbiamo pensare come donne è che se noi dobbiamo sostenere gli altri, per prime dobbiamo essere in grado di sostenere noi stesse, partire da chi siamo oggi, domani, nel tempo, nella nostra crescita, pensando dapprima la nostra autonomia, la nostra sensibilità, il nostro senso di allineamento per poi pensare di poter sostenere quello che oggi è ancora molto sulle nostre spalle e che dovrà sempre di più essere invece un tema condiviso a livello di società, di comunità, di coppia, di famiglia. Empowerment vuol dire pensarsi oggi per chi siamo, per la direzione che vogliamo prendere, per sentire un senso di soddisfazione e di piena realizzazione di quello che parleremo oggi con le ragazze di Prime Minister. Domani al Museo Ridola ci sarà il Graduation Day, che è quindi il giorno di chiusura della nostra seconda edizione. Premieremo le ragazze, daremo alle ragazze i diplomi e loro presenteranno il loro progetto della scuola di Prime Minister al pubblico. Siete tutti invitati, vi aspettiamo dalle 10 alle 13. E torniamo a Bari, è tutto pronto per la 17esima edizione della Race for the Cure, incontri con gli esperti e attività di prevenzione in piazza Prefettura. Atteso per questo pomeriggio è il taglio del nastro del Villaggio della Salute, mentre domani si corre per sostenere la prevenzione. Si scaldano i motori per l'avvio della 17esima edizione della Race for the Cure di Bari, che torna nel capoluogo pugliese per il fine settimana, portando con sé colore e grande attenzione al tema della prevenzione e della cura dei tumori che colpiscono le donne. La parola d'orti è cultura della prevenzione, è cambio culturale, perché queste sono le due, soltanto le due modalità affinché si possano avere delle chance per non ammalarsi il tumore. È chiaro che c'è poi tutto un contorno, c'è una sala alimentazione, c'è uno sport, ma soprattutto tanta attenzione alla prima persona. E noi siamo qui oggi come ogni anno nella 17esima edizione, proprio a gridare, ad urlare che bisogna prendersi cura del proprio tempo, della propria persona, perché in questo modo si possono sicuramente migliorare le proprie condizioni di vita. La ricerca ha compiuto e sta compiendo dei progressi giganteschi. Oggi siamo nel campo non solo della prevenzione, ma della terapia e della medicina di precisione. Quindi scoprire il tipo particolare di cancro di quel tipo di paziente è sicuramente un dato fondamentale ed è un progresso, perché tutte le terapie e anche le tecniche diagnostiche saranno personalizzate. Atteso per questo pomeriggio il taglio ufficiale del nastro del Villaggio della Salute, dove sarà consentito a tutti di partecipare gratuitamente ad attività legate allo sport, al fitness, alla sana alimentazione e al benessere psicologico. Domani poi il grande via alla corsa. I numeri ci sono, purtroppo il tempo probabilmente varrà a bloccare alcune attività, ma sono certa che ci sarà tantissima comunque gente, soprattutto appunto a testimoniare che ci sono. Inoltre quest'anno, domenica, insomma festeggiamo la festa della mamma, per cui abbiamo creato una squadra dedicata, hashtag corro con mamma, perché quando si ammala una donna si ammala la famiglia, quindi l'invito è a tutte le mamme, ma non solo, ma a tutti i figli, tutte le figlie a partecipare, perché questo è davvero il più grande atto di amore nei confronti della propria famiglia e della propria mamma. E ancora sport a Bari, questa volta affiancato dalla raccolta di rifiuti. Sulla spiaggia di pane e pomodoro di Bari un grande evento di plugging per sostenere il progetto dal titolo Mare. Vediamo. Una corsa speciale dedicata alla tutela dell'ambiente e l'iniziativa organizzata da Sorgenia in collaborazione con l'assessorato comunale all'ambiente di Bari sulla spiaggia di pane e pomodoro. Un grande evento di plugging, attività di corse e raccolta di rifiuti. L'iniziativa aperta a tutti i cittadini interessati a prendersi cura attivamente dell'ambiente è realizzata in collaborazione con Ami Puglia e con la cooperativa Erika. L'appuntamento si è svolto in concomitanza con l'arrivo nel porto di Bari del catamarano Guan, che effettuerà analisi e monitoraggi delle acque tra Ionio e Adriatico lungo un percorso di 1.400 miglia, circunnavigando tutto il bacino Adriatico. L'iniziativa si iscrive anche all'interno del progetto Mare, sostenuto da Sorgenia, nato da un'idea della fondazione CVC Centrovelico Caprera e sviluppato in collaborazione con One Ocean Foundation per monitorare lo stato di salute del Mediterraneo. Spesso noi riempiamo i nostri convegni, le nostre discussioni sull'importanza della sostenibilità, sull'importanza anche di fare dei gesti concreti a tutela dell'ambiente. Oggi stiamo, grazie a Sorgenia e grazie alla cooperativa Erika, facendo questo gesto concreto. Stiamo raccogliendo, camminando in maniera anche un po' più veloce su un tratto di costa come Pane Pomodoro, che tra poco, tra qualche settimana sarà preso in carico dalle pulizie straordinarie estive e stiamo dando un esempio a tutte le persone che ci vedranno con queste belle magliette colorate e raccogliere questi rifiuti che, ahimè, qualcuno ha abbandonato o che, peggio, il mare ci ha restituito per dei gesti di cimiltà. Questa attività si iscrive all'interno del progetto Mare, che è stato ideato da Fondazione Centrovelico Caprera e One Ocean Foundation per studiare la salute del Mediterraneo. Come Sorgenia abbiamo organizzato in quattro città, fra cui Bari, delle attività di plug-in, cioè di pulizia della spiaggia, facendo lieve attività fisica, coinvolgendo l'amministrazione comunale, le scuole, in questo caso c'è l'Istituto Caracciolo e la cittadinanza. L'obiettivo è quello di rendere, quante più persone possibili, consapevoli dell'importanza di prendersi cura dei luoghi in cui vivono. E tutti insieme, con gesti piccoli ma concreti, si può fare la differenza. E al Museo Civico di Bari è stato presentato il catalogo della mostra Volti Nicolaiani, 30 opere di pittura e sculture realizzate da affermati artisti del territorio. Vediamo. Il volto di San Nicola rivive attraverso l'arte di artisti e pittori del territorio pugliese. E' stato presentato il catalogo della mostra Volti Nicolaiani, organizzata e promossa dalla Fondazione Nicolaus in collaborazione con l'Assessorato alle Cultura e il Museo Civico del Comune di Bari. 30 opere di pittura e scultura realizzate da affermati artisti di diverse generazioni. Lavori artistici, inediti e provenienti esclusivamente da collezioni private e esposti solo per l'occasione. In questo lungo maggio nicolaiano abbiamo voluto celebrare al meglio San Nicola durante il corteo, prima con il corteo diffuso nei municipi e dopo con l'inaugurazione di questa mostra, che in realtà abbiamo inaugurato il 4 di maggio, resterà aperta fino alla fine del mese, compreso qualche giorno di giugno, per omaggiare insieme al Santo, in realtà i tanti artisti del territorio che hanno un po' caratterizzato tutta la loro arte attraverso il territorio stesso e l'arte nicolaiana. Abbiamo il piacere di presentare il decimo volume di questa collana che noi abbiamo inaugurato poco prima della pandemia, quindi diciamo nel 2019, e siamo arrivati al numero 10 dei documenti del Museo Civico e ci fa piacere farlo con i volti nicolaiani. Adesso abbiamo pensato anche di valorizzare quello che i vari pittori hanno realizzato con i volti di San Nicola per poterli mostrare anche alla cittadinanza, perché alcune, come quella che io ho alle mie spalle del maestro Piccini, è inedita. Volti Nicolaiani non solo una mostra, non solo un catalogo, ma anche degli incontri. Ecco, in che cosa consisteranno questi incontri? Sì, continuità di venire nel nome di San Nicola sono le prerogative della Fondazione Nicolaus che insieme al Centro Studi, al Museo Civico e al Comune di Bari, all'assessorato alle culture in particolar modo, valorizzano le eccellenze pugliesi in nome dell'arte e di San Nicola. Abbiamo pensato di affiancare al secondo anno della mostra Volti Nicolaiani degli incontri dedicati appunto al nostro santo. Cambiamo adesso argomento, ci spostiamo di nuovo in Basilicata. La cooperativa Fratello Sole ha inaugurato a Santa Maria d'Irsi nuovi spazi dando il via a importanti progetti, fra questo il percorso terapeutico a breve termine. Un modello di riferimento per il territorio ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità Francesco Fanelli partecipando al momento inaugurale. Vediamolo. La cooperativa Fratello Sole a Santa Maria d'Irsi guarda al futuro con ottimismo e si arricchisce di un nuovo punto ristorazione. inaugurato sabato mattina insieme al progetto terapeutico a breve termine Lucio Paolo Bressan insieme agli uffici amministrativi totalmente rinnovati. Una mattinata connotata certamente dall'entusiasmo di chi lavora quotidianamente per la cooperativa, un momento condiviso con le massime istituzioni del territorio, i rappresentanti degli ordini professionali e di categoria che hanno potuto così conoscere da vicino una realtà, modello e punto di riferimento per il territorio. Rappresenta un punto di riferimento, un'eccellenza anche a livello nazionale per i servizi che vengono offerti e oggi chiaramente è una giornata significativa e importante perché vi sono degli investimenti consistenti che ampliano i servizi e ci consentono sicuramente di affrontare una tematica importante come quella sulle patologie e le dipendenze che chiaramente visto il periodo che abbiamo vissuto con la pandemia sono amplificate e abbiamo il dovere quindi di sostenere questo tipo di iniziative. La regione deve essere a fianco, abbiamo visto delle esperienze toccanti, commoventi di vita e di speranza soprattutto. La regione è presente qui oggi con la mia persona proprio per ascoltare e cercare di trovare assieme le soluzioni. Già stiamo individuando attraverso il confronto che c'è stato in questi mesi con il presidente della cooperativa anche dei percorsi, dei progetti sperimentali che dobbiamo attuare nel più breve tempo possibile. Un crescendo che fa parte di una pianificazione che noi abbiamo fatto quattro anni fa, che prevedeva appunto l'adeguamento delle strutture alla legge regionale anche per favorire gli spazi e un maggior comfort per i ragazzi. L'obiettivo di oggi era soprattutto quello di far conoscere alle tante istituzioni che ci seguono e ci sono i direttori del carcere. Abbiamo avuto l'onore di avere l'eccellenza del prefetto. Queste istituzioni raccolgono oggi anche i risultati della fiducia loro concessa a noi durante tutti questi anni. Questo nuovo modulo, questa comunità terapeutica a breve termine, è formalmente l'unica a Sud Italia per questa particolare tipologia di servizio, che è una full immersion di psicoterapia dai quattro ai sei mesi per far sì che venga migliorata la prognosi nell'ambito delle dipendenze patologiche. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di TRMH24 e con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.